Una minoranza creativa presenta Via Crucis, dalla Bibbia alla Sindone Di Don Ioannis Lazigaid Edizioni Shalom Tutti i diritti sono riservati Grazie a tutti Il tuo volto, Signore, io cerco Fa, o Signore, che io possa vederti oggi nei volti sfigurati nei corpi sofferenti di ogni tempo nelle persone scartate e marginate e schiacciate dal peso delle loro croci Dona, mio Signore, di contemplare il tuo volto presente e nascosto nei volti dei miei fratelli e delle mie sorelle Fa, o Signore, che io sia una tua icona la tua sindone per testimoniare agli uomini del nostro tempo l'abbraccio del tuo ineffabile amore Francesco Prefazione Da sempre, ogni cristiano desidera poter scorgere com'era effettivamente il volto del figlio dell'uomo e così acquisire una ulteriore prova storica della sua esistenza Il volto di colui che ha sconvolto la storia dell'umanità e ancora oggi scuote chiunque lo incontra È immutata nel ricordo l'emozione di quando mio zio, sacerdote e rettore del seminario al Cairo Tornando da Roma mi portò, quale souvenir, l'immagine del volto della Sacra Sindone dove a margine stava descritta la sintesi della ricostruzione degli studi effettuati da parte degli scienziati e degli studiosi È da lì, da quel provvidenziale incontro che iniziò il mio interesse verso la Sindone quel sacro lino conservato dopo varie peripezie e percorsi nel Duomo di Torino Il mio grande interesse extrascolastico diventò la Sindone Proveniente dall'Egitto, la terra evangelizzata dalla predicazione di San Marco lessi e rilessi il suo Vangelo e man mano che ne proseguivo l'approfondimento scrissi a mio uso personale una via crucis secondo la Sindone per pregare, meditando la passione, la morte e la risurrezione del nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo Divenuto sacerdote sentii forte il bisogno di coinvolgere la gente della mia comunità ecclesiale con una riflessione che rispondesse maggiormente alle esigenze di una evangelizzazione attualizzata nella storia di oggi Pensai quindi a uno studio e a una pubblicazione in lingua araba che potessero divenire una proposta per tanti, cattolici e non, che vivono in Egitto Così realizzai un DVD sulla Sindone Memore di quel maestoso volto che ha segnato la meditazione degli uomini di ogni tempo confidando in quella parola del salmista Il tuo volto, Signore, io cerco non nascondere il tuo volto da me Salmo 27 8b 9a Sono passati circa 15 anni e ora ho pensato di estrarre dal cassetto delle mie carte quel testo già pubblicato della Via Crucis dalla Bibbia alla Sindone che è stato per me un'efficace aiuto spirituale per la preghiera nel sacro tempo quaresimale Oggi il volto di Cristo impresso nell'uomo della Sindone rappresenta un costante richiamo come ci esorta Papa Francesco a portare la nostra attenzione e il nostro impegno verso le periferie del mondo e a fermare il nostro sguardo a questo particolare lenzuolo che ha avvolto colui che, in realtà, ha abbracciato l'umanità avvolgendone tutte le sofferenze L'esposizione della Sindone a Torino, che vedrà pellegrino Papa Francesco mi ha spinto, pertanto, a pubblicare questo libretto confidando che possa aiutare nella preghiera i credenti e alla riflessione tutti coloro che sono alla ricerca di Dio Gesù ancora oggi, come ebbero a dire tanti scrittori e insigni studiosi rimane il mistero più grande della storia umana poiché fu figlio di una donna umile e semplice nacque in uno scuro villaggio e visse in un altro soborgo non meno dimenticato dove ha lavorato come falegname fino a trent'anni poi, per tre anni, percorse in lungo e largo la sua terra predicando non lasciò nulla di scritto non ottenne nessuna carica pubblica o istituzionale soprattutto non ebbe famiglia che ne riconoscesse la paternità né una propria abitazione non ottenne nessun titolo accademico ma si intratteneva a discutere con i sapienti del suo tempo fin dall'età di dodici anni non si allontanò più di trecento chilometri da dove era nato non perseguì nessuna di quelle imprese che di solito si definiscono con il termine successo non offrì altre credenziali che la sua persona al compimento dei trentatré anni l'opinione pubblica gli si rivoltò contro i suoi amici allora lo abbandonarono lasciandolo solo e uno di loro lo tradì vendendolo ai suoi persecutori ne sortì un processo definibile soltanto con il termine di farsa fu messo in croce in mezzo a due ladri e mentre stava morendo i suoi carnefici si giocarono ai dadi l'unica proprietà che aveva la sua tunica da morto venne deposto in un sepolcro donatogli da giuseppe d'arimatea un amico spinto dalla compassione dopo tre giorni quel sepolcro fu trovato vuoto di lui là dentro rimase solo quel lenzuolo la sindone che lo aveva avvolto con i segni della sua passione quasi una foto ricordo sono passati venti secoli e lui ancora oggi è la figura centrale dell'umanità il tempo storico degli uomini è segnato da un prima e un dopo di lui nessuno dei potenti di ogni epoca ha cambiato la vita dell'umanità sulla terra quanto la vita di quest'uomo straordinario oggi quell'uomo continua a parlarci anche attraverso la sindone ricordandoci che se lui ha avuto le mani inchiodate sulla croce occorre che noi ci adoperiamo a schiodare quelle dell'umanità crocifissa il suo cuore trafitto ci insegni l'intensità dell'amore le sue piaghe siano un continuo richiamo a condividere le sofferenze di tutti coloro che anche oggi sono piagati nel corpo e nello spirito questo è l'intento che mi ha spinto a scrivere queste semplici pagine con l'auspicio che il lettore contemplando il volto dell'uomo dei dolori ottenga il dono delle lacrime per camminare con autenticità insieme ai fratelli seguendo le orme di Cristo povero e sofferente verso l'alba radiosa della risurrezione Ioannis Lazigaid O Cristo crocifisso e vittorioso il Santo Padre Francesco al termine del solenne rito della Via Crucis del Venerdì Santo tenutasi il 3 aprile 2015 al Colosseo ha rivolto la sua parola ai fedeli un messaggio di speranza che invita a riflettere di fronte alle sofferenze provate dal Cristo nel percorso fino alla sua morte un percorso in cui emergono tramite il suo volto le ferite della cattiveria dell'umanità e dei nostri peccati uniamoci alle parole del Santo Padre e chiediamo al Signore di partecipare a questa Via Crucis in profonda intimità con Gesù e di aprire il nostro cuore alla contemplazione del suo amore per noi e di partecipare a questa Via Crucis e vittorioso la tua Via Crucis è la sintesi della tua vita è l'icona della tua obbedienza alla volontà del Padre è la realizzazione del tuo infinito amore per noi peccatori è la prova della tua missione è il compimento definitivo della rivelazione e della storia della salvezza il peso della tua croce ci libera da tutti i nostri fardelli nella tua obbedienza alla volontà del Padre noi ci accorgiamo della nostra ribellione e disobbedienza in te venduto, tradito e crocifisso dalla tua gente e dai tuoi cari noi vediamo i nostri quotidiani tradimenti e le nostre consuete infedeltà nella tua innocenza, agnello immacolato noi vediamo la nostra colpevolezza nel tuo viso schiaffeggiato sputato e sfigurato noi vediamo tutta la brutalità dei nostri peccati nella crudeltà della tua passione noi vediamo la crudeltà del nostro cuore e delle nostre azioni nel tuo sentirti abbandonato noi vediamo tutti gli abbandonati dai familiari dalla società, dall'attenzione e dalla solidarietà nel tuo corpo scarnificato, squarciato e dilaniato noi vediamo i corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo le strade sfigurati dalla nostra negligenza e dalla nostra indifferenza nella tua sete, Signore noi vediamo la sete del tuo Padre misericordioso che in te ha voluto abbracciare perdonare e salvare tutta l'umanità in te, divino amore vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguitati decapitati e crucifissi per la loro fede in te sotto i nostri occhi o spesso con il nostro silenzio complice imprimi, Signore, nei nostri cuori sentimenti di fede, di speranza di carità, di dolore dei nostri peccati e portaci a pentirci per le nostre colpe che ti hanno crocifisso portaci a trasformare la nostra conversione fatta di parole in conversione di vita e di opere portaci a custodire in noi un ricordo vivo del tuo volto sfigurato per non dimenticare mai l'immane prezzo che hai pagato per liberarci Gesù crocifisso rafforza in noi la fede che non crolli di fronte alle tentazioni ravviva in noi la speranza che non si smarrisca seguendo le seduzioni del mondo custodisci in noi la carità che non si lasci ingannare dalla corruzione e dalla mondanità insegnaci che la croce è via alla risurrezione insegnaci che il venerdì santo è strada verso la Pasqua della luce insegnaci che Dio non dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si stanca mai di perdonarci e di abbracciarci con la sua infinita misericordia ma insegnaci anche a non stancarci mai di chiedere perdono e di credere nella misericordia senza limiti del Padre anima di Cristo santificaci corpo di Cristo salvaci sangue di Cristo inebriaci acqua del costato di Cristo lavaci passione di Cristo confortaci o buon Gesù esaudiscici dentro le Tue piaghe nascondici non permettere che ci separiamo da Te dal nemico maligno difendici nell'ora della nostra morte chiamaci e comanda che noi veniamo a Te affinché Ti lodiamo con i Tuoi santi nei secoli dei secoli Amen Amen Grazie a tutti.